Presidente, nel stato di questo avviso, se l'avrò fatto questa richiesta, non è l'altro perché non c'è proprio la prova di attraverso. No, posso desprimoniare ai consiglieri Sposetti che la richiesta era stata fatta verbalmente e qualsiasi richiesta fatta dal Consigliere Comunale ha ovviamente tutte le capacità per poter essere saldita. Ricordo anche che fu assunto un impegno in questo senso, quindi essendoci ancora tempo per la votazione del bilancio, perché come ricordo stabilito nella conferenza degli anni 20, il scambinaggio si voterà il giorno 17 di maggio, prego l'assessore questo veramente era prima del dibattito? Prego, certo, siccome il 17 non credo che voteremo senza prima far procedere la votazione da un dibattito se nel corso di questi giorni l'ufficio le fornirà le risposte richieste per cui io dissi anche e io avevo la sua stessa curiosità. Capito da questo punto di vista, io credo che si è sempre in tempo. Grazie mille, grazie mille, grazie mille. Grazie mille, grazie mille. Grazie mille, grazie mille. Marini, Gambianetto, Rodelli, Ubertini, Bragaglia, Tappoli, Porciani, Mici, presenti. Pazzolini, Montoni, Contardi, Sasa, Terry, Ragazzini, Simoncini, Federici, Federici, Benari, Marco Sano, Salvatori, Puzzi, Marcucci, Badoni, Fusco, Russo, Povino, Poseco, Guaggini, Serra, Vitarelli, Giambera, Buscarelli, Ricci, Benzini, Insomni, Natalini, Gili, Garbieri, Tappoli, 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 Talucci, Mezzetti, Ragazzini, Bragaglia, Dappoli, Fattolini, Montoni, Fragassini, Presente, Benari, Marcucci, Badoni, Grazie mille. 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 Ricci. Presente. Battolini. Bruttoni. Presente. Contatto. Salza Terry Fragasini Simoncini Federici Bernati Marcosano Salvatore Buzzi Marcucci Spadoni Busco Russo Obino Posetti Guaccini Serra Assente Cassini Assente 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 La lotta Assente La luce Presente Presente 21 Presente Siamo l'assenza del Presente E' 21 Presente La seduta è valida e può iniziare Emendamento numero 2 presentato dal consigliere Russo Oggetto Costituzione di una condizione a tutela della pubblicità esiva della pubblicità della donna La parola al consigliere Russo Prego Sia per questo emendamento che per l'altro che ho presentato Lo ritiro Sia per questo emendamento Sia per questo emendamento Prego Tutti i consiglieri Voglio Arbettare Tutti i consiglieri Quello che è successo Lo scorso anno In occasione Della discussione Del diritto L'inizio di questa Discussione Porta A ritenere Che Ovviamente Il comportamento Potrebbe essere Lo stesso Quindi richiamo Alla responsabilità Dei consiglieri La loro presenza In aula Oltre a rendere Produttiva La discussione Del bilancio Quindi Consigliere Russo Le ritira Sia Propone come emendamento Sia il punto 2 Che il punto 3 Come raccomandazione Come raccomandazione Allora Deve intervenire Sul punto 2 Consigliere Zonia Approvato Se io questo Demandamento Vi faccio Lui Ok Posso Parlo Certo Sì 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 C'è una domanda Sì